Questa partita era stata preparata a fare la guerra e a tre ci siamo riusciti bene, poi negli ultimi minuti finali ci siamo venuti un po' meno e purtroppo è andata così. Ora bisogna solo abbassare la testa e pedalare e migliorare il giorno dopo giorno negli allenamenti. È una squadra consapevole dei provi mezzi ma al momento bisogna mettere i piedi a terra e guardare la realtà e il momento e quindi come ho detto e ripeto bisogna solo abbassare la testa e pedalare negli allenamenti.